Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Finalmente oggi riesco a presentarvi, a farvi il video un pochino più approfondito a cosa ne penso di Warhammer Age of Sigmar Dominio, nuova edizione del gioco di battaglie fra eserciti fantasy, molto famoso, che è l'evoluzione, il successore del vecchio mondo, in questo nuovo set base che dovrebbe essere, non so se la terza o la quarta edizione delle regole, comunque nuovo set di partenza, poi lo vedete anche dal nuovo logo e tutto quanto, che vede da una parte combattere gli orchi crudelazzi, che sono una figata assuda, e tra l'altro li potete vedere qui davanti qui, perché hanno un po' abbandonato gli orchi del vecchio mondo e pelle verde, quelli, sì, scemi, sono sempre scemi, consentitemi il termine, però con queste mascellone, con i denti lunghi, con le orecchie appunto, apparevano un po' degli elfi o degli hobgoblin, questa volta sembrano veramente degli urukai, e da quest'altra parte i bellissimi, che un tempo non mi piacevano, ma ora li sto iniziando ad adorare, anche perché sembrano gli space marini del 40.000, parliamo degli Stormcast Eternals, che vedete qua davanti, e poi i due eroi, andate per gli Stormcast di qua, e mi alzo un attimino e quello qua dietro sarà alto 10 centimetri, forse anche 11, dei crudelazzi, che è veramente di una bellezza disumana, come vi ho detto in questo nuovo set di partenza, che ora vi vado a descrivere, dopo la sigla. Warhammer Rage of Sigmar, dominio, set base, gioco ovviamente della Games Workshop, ci catapulta nel mondo di battaglie fantasy, che come ho detto è stato il diretto successore del vecchio mondo, laddove le forze della luce, che sono quelle guidate dal De Guerrero Sigmar, si vanno a scontrare con le forze dell'oscurità, più che altro Chaos e Nagash, ma comunque nel mezzo ci sono sempre ancora Hulk, Fantasmi, Nighthaunt, Città di Sigmar per gli umani, alleati con i Nani e altre cose, e poi comunque molti altri popoli che sono tornati in voga e veramente con delle minature spettacolari, come ad esempio Illuminate, quelli che un tempo erano tipo gli Elfi Alti, gli Elfi dei Boschi, gli Elfi dei Mari e tantissimi altri eserciti che, devo dire la verità, sono anche belli a livello di background, di storia, ma soprattutto di miniature. Si parla di roba della GV e quindi è sempre roba soprattutto da collezione. In questo set base abbiamo tutte le miniature, non le abbiamo ancora dipinte, ma mia moglie ci farà un po' di video dedicati, tutte le miniature che vedete qua davanti, che è una scatola da 150 euro, però vedete da questa parte qui le Stormcast, che sono veramente tanti, grossi e bellissimi, cioè guardate questa figura qua giù, l'eroe con le ali da angelo sulla scala, è bellissimo, e da quest'altra parte gli Orchi Crudelazzi, dove addirittura, penso su un Warg o comunque su un lupo da guerra, guardate il boss qua giù, cioè sono veramente spettacolari, e le regole del gioco, lo sapete, la GV ogni totta anni fa delle rivisitazioni delle regole, anche per poi, dopo, tirare fuori un nuovo box e fare un po' a ripartire, quando inizia a esserci un po' di aretta, stantia, mettiamola così, però le regole, bene o male, sono sempre le stesse, più che altro vanno sempre con la parola d'ordine, snellire, 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 per renderle sempre più facili, ed è quello che hanno fatto anche in questa edizione. Nelle regole, a differenza di un pochino più vecchiotto come me, viene da Warhammer anni 80-90, quello del vecchio mondo, qua giù questa volta abbiamo le War Scroll. Quando comprate la lista dell'esercito, ovviamente sul Codex, ci sono sempre scritte le caratteristiche delle vostre truppe, ma questa volta abbiamo direttamente delle comodissime War Scroll da tenere sempre sott'occhio, senza andare a sfogliare in manuale, pagine e pagine, dove ci dicono le caratteristiche delle nostre truppe. Il regolamento, ragazzi, è sempre lo stesso, si tira il dado da 6, si somma alla leadership del generale, se è presente, e si guarda chi ha vinto, ovviamente, l'iniziativa. Dopo aver fatto la fase di iniziativa, c'è la fase degli eroi, dove si può far compiere un'azione eroica a uno dei nostri eroi, uno e uno soltanto, poi punti comando, che vengono generati uno per ogni turno, più uno se ancora invita il generale, che potete tenere da parte per i turni successivi senza spenderli, e ci danno la possibilità di fare stratagemmi e dare potenziamenti alle truppe sul campo, ma non soltanto anche fare azioni di reazione. Quindi, che ne so, nel turno del nemico, il nemico ci carica, io con la mia truppa di arcieri posso provare a tirarti addosso prima ancora di venire caricata, per vedere se ti faccio qualche kill, e quella è una stratagemma, ad esempio. Caratteristiche segnate sulle schede, si possono fare le azioni, che sono muoversi, caricare, correre, disingaggiare, combattimento, combattimento che adoro in questa nuova edizione, perché si va sempre a tirare il dado per colpire, che ne so, sulla scheda c'è scritto, colpisci al 4+, quella tua truppa, che ne so, gli Stormcast Eternals, colpiscono il 3+, al 4+, quanti c'è noi in corpo a corpo? 4, tiro 4 dadi, tutti quelli col 4+, a meno che non gli abbiate dato uno stratagemma di bonus, vanno a colpire. Quindi, 2, 3 e cose del genere, non beccano, dal 4+, beccano sempre, con il 6, che è un colpo sempre a segno, e uno che è sempre un fallimento. Quindi, ti ho colpito, ok, successivamente, non c'è più il tiro, mia forza, tua resistenza, che c'era da fare il calcolo, se la mia forza è 5, e la tua resistenza è 4, ti ferisco al 3+, se siamo 5-5, ti ferisco al 4+, e così via. Qui no, c'è il valore di ferita dell'arma, scritto sull'arma, sulla scheda, quindi sono le armi che feriscono, non è la forza del guerriero, se l'arma ferisce al 5+, quell'arma ferisce al 5+, non c'è da fare tiro resistenza, tiri, cose varie, no, se ti riesco anche a ferire, ovviamente il giocatore dall'altra parte, deve fare un tiro salvezza, tirando un D6, magari salva col 5+, però, se l'arma ha un valore di impianto, che praticamente passa l'armatura e perforazione, per ogni punto di impatto dell'arma, si va a scalare di 1 il tiro salvezza del nemico, quindi se il nemico ha 5 o più, e l'arma ha un valore di impatto di 2, andrebbe a 7 o più, quindi gli togli completamente il tiro salvezza, quindi non può salvare. E poi ad esempio ci sono le ferite mortali, che fanno soprattutto gli eroi, ma a volte anche qualche truppa bella grande, le ferite mortali sono ferite che non devi tirare per colpire, non devi tirare per ferire e non c'è tiro salvezza, quindi le prendi punta e basta, se questo ti arriva in corpo a corpo, non c'è modo assolutamente di evitarlo, a meno che non ci sia qualche stratagemma incantesimo che le evita, però non c'è da tirare nulla, ti arriva in corpo a corpo e te le fa, anche perché le creature più grandi, gigantesche e più potenti, farebbe un po' ridere vedere un Arcaon che tira tutti uno, e perché quell'altro ha avuto sfortuna tirando i dadi il suo proprietario, chi lo muove e vedere che non va a segno nemmeno un colpo, insomma farebbe un po' pena. Il regolamento ragazzi, poi tutto quanto basato sulla magia e quant'altro, è sempre quello di Warhammer che abbiamo conosciuto, secondo me modificate e snellito veramente da morire, addirittura anche per superare un ostacolo, fare un salto da un punto ad un altro, vedendo la distanza di salto che è il movimento massimo del personaggio, quando si va a fare una carica si tirano i D6 e il risultato si va ad aggiungere al movimento, le regole sono sempre quelle, diciamo che l'hanno snellite e velocizzate e Warhammer in questa nuova edizione Dominio si presta benissimo anche alle schermaglie, perché quello che c'è qui davanti, come vedete, non sono eserciti. Sì, forse quello degli Urki c'è un pochino più di roba, però non sono eserciti veri e propri, sono più schermaglie, cioè servirebbe un altro box o due per andare a finire quello che manca in questa scatola, invece no, avete già tutto l'occorrente per giocare per mesi, mesi e mesi. In conclusione, Warhammer e Age of Sigmar in questo nuovo set base, proprio la nuova edizione Dominio, è uno spettacolo assurdo ed è il box che onestamente stava attendendo, perché sono, prima di tutto, belle le miniature. Finalmente hanno riportato un pochino in voga in un set base, perché si vedevano sempre i Stormcast e i Night Haunt, i Stormcast e il Chaos. Finalmente questa volta ci hanno riportato un po' di Urki, ma poi, a parte belle, grandi e tutto quanto, guardate che questi Urki sono paurosi, sono, ci sono in mezzo anche un po' di Goblini, sono spettacolari, perché si sono, e mi piacciono, però si sono allontanati dal vecchio orchetto, ve l'ho detto, piccino, brutto, gobbo, con la mannaia, quello di Iro, questo per farvi capire. Questa volta sono davvero gli Urkai. Questi crudelazzi sono gli Urkai, e sono di una bellezza, secondo me, disumana, che faranno sicuramente la felicità di ogni collezionista, ma soprattutto di ogni pittore. Io ringrazio ancora una volta la Gioco Libre di Asimola per averci offerto questa copia per la recensione, e come sempre, il primo link è in descrizione, in sovraimpressione, per tutti i prodotti GV, ma anche per il resto del catalogo, quindi giochi da tavolo, pitture, roba di cancelleria, di scuola, tutto quanto, dal nostro negozio sponsor, Gioco Libre di Asimola, usate sempre, come vedete a nota, il codice discount Coridan 7 per avere uno sconto del 7% spese postali gratuite in 24 ore in tutta Europa, isole comprese, e, come dico sempre, se un prodotto non c'è in lista, non lo trovate, c'è ovviamente, c'è tutto della GV, ma non c'è in lista, oppure lo trovate, ma c'è scritto finito, voi comunque contattate Corrado, il proprietario della Gioco Libre di Asimola, e ditegli, arrivo dal canale di Coridan, voglio dominio, però non ce l'ha in lista, ma si può ordinare, anche se nello shop non c'è, lui farà il possibile per farvelo avere, consiglio spensierato da migliore amico, prendetelo ora, ma Coridan non c'è il tempo di giocarci, ma non so se ci giocherò mai, ma le prendo per dipingerle, ma forse ora lavoro, non ho tempo, mi tocca metterle da parte per un anno, se non la vuoi lascia prendere, ma se la vuoi prendila ora, perché ci sono i bagarini maledetti che io odio, che poi te la fanno pagare 300 euro, oppure lo trovi in offerta a 100 euro, sì, domini a 100 euro, eh però tutti gli orchi l'ho già venduti, perché poi sono furbi, le smegzano, ho solamente le Stormcast, e cosa compro mezza scatola spendendo 100 euro, prendetela subito perché i prodotti cv, soprattutto le nuove edizioni, sono a tiratura limitata, perché se no poi dopo andrete a dare 250-300 euro a qualcuno che vi spenna e magari ve lo manda anche tutto rotto, quindi compratelo subito e poi nel caso lo mettete da parte, fatemi sapere cosa ne pensate e ragazzi, Warhammer Fantasy è tornato in assoluto alla massima potenza possibile, ciao alla prossima!